Alberto, Enrico, 32 anni, 44 anni. Contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile per un futuro migliore. Crediamo nei valori di professionalità, trasparenza ed onestà. Mi piace definirmi agricoltore freelance, nel senso che sono un enologo ed entro all'interno delle aziende agricole del territorio nazionale per offrire il mio contributo professionale. Lavoro presso un'azienda vitivinicola e da 14 anni mi occupo di agricoltura biodinamica. Nasce dalla nostra passione comune per la biodinamica, con lo scopo di condividere esperienze professionali in questo ambito. Il futuro ha bisogno di un'agricoltura che sia sempre più ecologica e sostenibile. Crediamo che il confronto e la condivisione siano necessari per affrontare questa sfida. Siamo consapevoli delle potenzialità inespresse del nostro territorio e desideriamo preservarlo e valorizzarlo. Iscriviti a questo canale per rimanere aggiornato sui prossimi video in uscita. Ciao! Ciao!